Un cordiale saluto e bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo per l'inizio della prossima settimana. L'anticiclone sub-tropicale in questi minuti si sta espandendo verso il Mediterraneo, si tratta tuttavia di una visita decisamente breve in quanto già dalle prossime ore irromperà aria più fresca dai Balcani, proveniente dall'est Europa, e invaderà il Mediterraneo, specie del sud Italia, dove porterà venti forti e anche dei temporali a tratti molto forti. L'anticiclone invece si espanderà sull'Europa occidentale e ingloberà il nord Italia. Nel dettaglio quindi tra lunedì e martedì ci aspettiamo l'arrivo di instabilità sulle regioni del sud, parliamo ovviamente di temporali acquazzoni concentrati principalmente nelle ore pomeridiane e sulle zone interne, quindi su Basilicata, Calabria, Campania, in Appellino, tra Abruzzo, Molise, Lazio, qualche fenomeno anche in Puglia. Andrà meglio invece al nord, dove avremo cieli sereni, un poco nuvolosi, venti forti di maestrale sul basso Adriatico e sul tirveno meridionale, anche sul Marionio, con raffiche oltre 50 km d'aria. Le temperature invece ne approfiteranno per salire al nord anche oltre i 30-31 gradi, più fresco invece sulle regioni del sud. Grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo giornale.